E ci abbiamo alle conclusioni con il nostro focus finale sui tirchi della politica, in particolare del popolo della libertà. La notizia ricca di particolari è stata pubblicata dall'Espresso, ma la riprendiamo volentieri a beneficio di quanti pensiamo non l'abbiano visto, non l'abbiano letta. Pur capeggiato da Berlusconi, che è uno degli uomini più ricchi d'Italia. Si sa, il PDL non naviga in buone acque ed è stato anche costretto a lasciare la storica sede di via dell'umiltà. E tutti implorano Silvio Berlusconi di intervenire personalmente, come già avvenuto in altre occasioni. Ma l'ex premier, stanco di anticipare soldi di tasca propria, non ne vuol più sapere. Non a caso, tra i cardini di Forza Italia 2.0, di cui si parla da tempo, dovrebbe esserci una schiera di imprenditori in grado di assicurare autonomia economica al nuovo movimento. I tirchi in casa PDL sono tantissimi, rieletti e non rieletti, alcuni poco noti, altri invece molto celebri, come Scaiola, che si è vendicato dopo essere uscito dal partito, Alessandra Mussolini, l'ex ministro Antonio Martino, l'ex sottosegretario Margherita Boniver, Ombretta Colli e soprattutto Giulio Tremonti, che per deserta le norme del suo partito. È sorprendente se si pensa che i tirchi sono gente che prende 20 mila Euro al mese, ma succede anche in casa del Movimento 5 Stelle neonato, dove chi i 20 mila Euro li ha presi per un anno e si è fatto i conti, si è rivoltato contro Grillo ed è confluito nel gruppo misto. Altro che ideali è il vile danaro a muovere la politica della Terza Repubblica.